Per voi, qui da parte, Roberta Coni-Stinelli! Grazie. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Devo rivelare gli occhi e le battute della gente Ho la curiosità di una ragazza rivelente Che ti avvicina solo per un suo dubbio impertinente Vuole scoprirse però quanto si dice intorno ai nani Che siano i più forniti della virtù Meno apparente Tra tutte le virtù una più indecente Passano gli anni, i mesi e si mi conti Che i minuti è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti La maldicenza insiste, batte la lingua su un tamburo Fino a dire che un nano è una carogna di sicuro Perché ha il cuore troppo troppo vicino al buco del culo Grazie a tutti! 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 Beh a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! ci incontriamo anche in Lenti, Comunioni, Battesi